E ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e quella che vi porto oggi alla Top 5 Plays of the Week ovvero la Top 5 composta alle vostre migliori clip che ci inviate tutte le settimane all'email che state vedendo in questo momento raga abbiamo bisogno di nuove clip quindi inviateci le vostre migliori a questi mail ci fareste veramente un gran piacere per vedere top sempre migliori partiamo subito con il quinto episodio di questa Top 5 al quinto post troviamo Jammy the Boss che si trova con la Sparachiodi su Call of Duty Black Ops 3 Nuketown fa prima una kill di Sparachiodi poi una doppia con il C4 fa una doppia con la Sparachiodi ulteriormente sempre sopra la casetta mette un altro C4 e fa un'altra kill e poi trova altri due nemici e riesce a ucciderli tutti e due con la Sparachiodi uccide anche un ultimo nemico e riesce a farci questa ultra uccisione veramente molto carina fatta con un'arma del DLC un po' strana ecco in quarta posizione troviamo un'altra clip su Black Ops 3 fatta con lo specialista Purifier da Joker che fa prima una tripla poi si avvicina verso lo spawn e ci fa una six on combinando 5 kill di Purifier e una kill di Brecci e poi ci fa un'altra kill prima di terminare la sua clip è una clip abbastanza carina però è fatta con il Purifier quindi vale un pochino di meno ecco in terza posizione troviamo un'altra clip fatta con lo specialista lui è Bestiu e sta utilizzando il Tempest su Combine, deathmatch a squadre quindi sta giocando anche da solo in questo momento ci prende 5 kill, una sesta kill con il Tempest un'altra kill ancora con il Tempest in Jumpshot e in più uccide due nemici con il Manowar che si trovavano qua fermi e riesce a farci questa kill chain abbastanza carina che meritava tutto il terzo posto perché comunque è stata una giocata abbastanza intelligente fatta da solo dentro allo spawn quindi è una cosa abbastanza carina ecco in seconda posizione invece raga troviamo una 5 on screen fatta da Ludic con il Locus e spottata su Newtown dietro il divanetto eccetera però comunque era abbastanza carina e quindi ho deciso di metterla al secondo posto ha fatto anche una collatera al suo interno ecco mentre in prima posizione stavolta raga la decido io perché questa clip è veramente molto bella troviamo Z-Strike che ci fa prima 3 kill con il Ballista poi si avvicina verso lo spawn, fa un miss, prende un altro nemico in headshot switch all'XPR e qui inizia la vera strage, uccide uno o due nemici poi uccide il terzo nemico, i nemici iniziano a spawnare, fa i bon screen la prima volta la seconda volta e la terza volta, raga fa i bon screen per 3 con il purifier e una 11 man è veramente una clip molto bella niente raga qui il video è giunto al termine, io vi chiedo di lasciare un bel like per il supporto presto torneremo con nuovi video raga sono un po' impegnato con gli esami quindi scusatemi se ci sono stati meno video in questo ultimo periodo avrei voluto anche farvene su Call of Duty World War 2 ma purtroppo non avevamo i diritti di farlo e quindi non ho potuto farveli restate sintonizzati, lasciate un bel like e continuate a inviarci le clip a queste email da retentive tutto, bella che sembra un bazzucca nella tuta minchia tu non ti piace il gtf? minchia minchia ammazzati minchia sparati quando arrivo devi farmi passare